Amici di Android Blog, stiamo girando questo video con la fotocamera DLG G3 un video molto breve perché poi dovremo restituirlo proviamo a mettere a fuoco stabilizzatore ottico che davvero si vede questo video è girato in Full HD ma il dispositivo può girare anche in Ultra HD la camera ricordiamo è da 13 megapixel proviamo a fare una ripresa più da vicino e poi a spostarci le luci qua sono davvero difficili per questo video ripeto è girato dal nuovissimo DLG G3 dalla presentazione ufficiale di Milano